Come sono piccoli gli uomini che mangiano, dormono, bevono, s'accoppiano, mingono, defecano e poi vanno all'altro mondo. Soltanto chi come noi è costretto ad ascoltare ogni giorno nel segreto del confessionale i racconti che gli uomini fanno delle loro sporcizie, delle loro nequizie, può esprimere un parere sul genere umano, sulla futilità delle cose terrene, degli stati, dei regni e sulla vita nascosta dentro le case. Se io dovessi dare un mio giudizio complessivo, emettere una mia sentenza, io volentieri invocherei il diluvio universale ed emetterei serenamente una sentenza irrevocabile di morte generale.